Best for Soil, una rete internazionale per promuovere quattro buone pratiche per la salute del suolo in Europa. Ciao, sono Saskia. Insieme ai colleghi di otto paesi, sviluppiamo una rete per lo scambio di conoscenze sulla salute del suolo. E in questo video vi mostriamo quali interventi adottare per mantenerla o migliorarla. Inoltre, ulteriori informazioni si possono ottenere visionando gli altri video di Best for Soil. Best for Soil fa parte del Partenariato Europeo per l'Innovazione Agricola, EIP Agri. Nel progetto Best for Soil, ricercatori, agricoltori e consulenti di 20 paesi europei approfondiscono le conoscenze su malattie e parassiti del suolo e elaborano le migliori pratiche per mantenere ed incrementare la salute e la fertilità del suolo. Best for Soil aiuta i professionisti. Uno, fornendo database sugli agenti patogeni e sui nematodi presenti nel suolo che colpiscono le colture e due, condividendo le migliori pratiche per contenerli. Tutte le informazioni sono fornite in 22 lingue europee e costituiscono una importante raccolta di strategie per migliorare la salute del suolo. La salute del suolo è la capacità di un suolo di far fronte a malattie e parassiti, mantenendo sufficientemente basso il livello delle popolazioni in modo tale che le colture non subiscano danni. L'agricoltura intensiva, a lungo andare, esercita pressioni sulla salute del suolo e insieme alle crescenti restrizioni all'uso dei pesticidi sintetici, comporta la necessità di trovare metodi alternativi per gestire e ridurre al minimo l'impatto delle malattie. L'ottimizzazione delle rotazioni delle colture e l'implementazione di opportune strategie riducono al minimo il rischio che le malattie del suolo raggiungano la soglia di danno economico o addirittura che si manifestino. I database Best for Soil e gli strumenti di supporto decisionale aiutano i singoli coltivatori a progettare una rotazione delle colture e ad implementare le migliori pratiche per un terreno sano. Le migliori pratiche per mantenere un terreno sano comportano l'applicazione di compost o ammendanti organici e l'uso di sovesci o cover crops. Queste tecniche possono aumentare la resa delle colture, migliorare la salute del suolo, aumentarne il contenuto di sostanza organica e possono ridurre le popolazioni di agenti patogeni o prevenirne l'insorgenza. Altri approcci, quali la disinfestazione anaerobica del suolo, ASD, e la biosolarizzazione possono essere utilizzate per controllare lo sviluppo di agenti patogeni e nematodi mantenendo il suolo sano. È possibile accedere a tutte le informazioni tramite il sito web Best for Soil, inclusi database ad accesso libero, blog, esercitazioni video, schede informative. Qualsiasi professionista può iniziare subito ad attuare rotazioni appropriate e adottare strategie innovative per controllare i patogeni presenti nel suolo e migliorare la sua salute. I facilitatori Best for Soil supportano i professionisti in 20 paesi in occasione di eventi informativi o conferenze regionali. Su richiesta possono organizzare seminari per gruppi locali interessati a saperne di più su argomenti specifici promossi da Best for Soil.